Giornata della memoria, qualcosa che dobbiamo tenere nella nostra agenda ogni anno per non solo ricordare i 6 milioni di morti nei campi di concentramento tedeschi, di Auschwitz, ma gli altri in Polonia, ma soprattutto tenere sempre vigile la nostra attenzione perché cose di questo genere non possano venire accettate dalla nostra società civile e vengano continuamente respinte perché questo mostro che fa parte dell'anima umana è sempre lì pronto a essere risvegliato. Basti pensare a quello che è accaduto in Jugoslavia, alla fine poca centinaia di chilometri distante da noi, oppure in Ruanda. Genocidi terribili che hanno avuto sempre al centro il fatto della caccia al diverso. I 6 milioni, bisogna ricordarlo, sono stati ebrei, sono stati omosessuali, sono stati handicappati, sono stati zingari. L'unica colpa che queste persone avevano era di appartenere a delle categorie che non venivano considerate come facenti parte della società civile. Deve essere rifiutato questo concetto, dobbiamo tenerlo sempre presente, non concedere concessioni di nessun margine alla frase etipica che veniva usata in Polonia in quel periodo che è un ebreo ma è una brava persona. Grazie a tutti.